Vi dici come è andata questa settimana e che vi siete detti, perché l'impressione è che dopo la sconfitta contro la Spal si è tutto finito. Chiaro che non è semplice riprendere il cammino, riprendere quello che è il nostro, però bisogna affrontarla con coraggio, con la determinazione, perché ci sono ancora tre partite, vanno giocate e noi tutti dobbiamo dare il nostro meglio. C'è stato un confronto anche tra di voi, perché a me sono rimaste in testa quelle parole a fine partita, quando sia tu che Setti avete indicato alcuni giocatori che sono venuti a mancare nel momento clou del campionato? Io mi riferivo ovviamente a giocatori che sono venuti a mancare per una questione fisica che non abbiamo avuto, abbiamo perso il nostro attaccante di riferimento, Ken, questo è un dato di fatto, Matos lo stesso, io mi riferivo esclusivamente a questa, è una questione fisica, poi il rendimento dipende un po' da tutti, da come è la squadra, da come reagisce ai momenti di difficoltà, ma io mi riferivo esclusivamente a un fattore fisico, dato oggettivo, e quindi questo nel momento clou non li abbiamo avuti. Dal punto di vista caratteriale invece non c'è nulla da dire su quei giocatori? Chiaro, nei momenti di maggior pressione, dove bisogna fare risultato, bisogna rincorrere, questo l'abbiamo pagato, l'abbiamo pagato a caro prezzo, perché nei momenti in cui il risultato, rincorrere una posizione, rincorrere una classifica, questo è, anche se devo dire, nelle partite, nell'ultima gara in cui abbiamo perso, c'è stata sempre una prestazione di un certo livello, fino anche alla partita contro la spalla, fino al 2-1 della spalla, la squadra era viva, era dentro la gara, quindi poi nel rincorrere sempre questa situazione, rincorrere una posizione di classifica, questo ci ha fatto sprecare troppo energie e l'abbiamo pagato a caro prezzo. Potrebbe arrivare la matematica, forse arriverà insomma sabato. Te lo immaginavi così questo campionato? No, assolutamente, non immaginavo, io immaginavo un campionato diverso, come tutti del resto ci aspettavamo, un campionato diverso, con un obiettivo che potevamo raggiungerlo, anche l'ultima giornata, con grande sofferenza, e ce la siamo giocata fino a 4 giornate alla gara, nonostante la classifica, nonostante quello che abbiamo vissuto, però io penso, ma ora in questo momento, il discorso del campionato molto aperto, immaginavo un campionato molto aperto, tante squadre si sono trovate a lottare per le zone basse della classifica, qualche sorpresa c'è stata, non immaginavo alcune squadre che stessero in alcune situazioni, però alla fine il campo ha detto che qualcuno ha fatto meglio di noi le cose, e quindi bisogna dare atto a quello che è stato il campo. Ho visto che non c'è Ken tra i convocati, al di là dell'infortunio nello specifico, ti chiedo, in generale, perché porto l'esempio del Crotone, perde Budimi, recessimi, il Chievo per esempio, non c'è Inglese, c'è Stepinski, la Spal, va bene, ha in abbondanza, non è stato veramente troppo rischioso avere un attaccante di ruolo, insomma uno che, non sei meglio di me, che dà la profondità? Ma il rischio è perché avevamo anche Matos, c'era Petkovic, lo stesso Cerci, insomma voglio dire, ci siamo dimenticati di Cerci, ma Cerci l'abbiamo avuto praticamente, vado a fare il totale in due mesi, tre mesi, nell'arco di dieci mesi, e questo è un giocatore, il nostro giocatore con maggiore esperienza, con maggior vissuto e avrebbe dovuto darci qualcosa in più e forzatamente questo non è stato possibile, quindi i giocatori in grado di poter ricoprire quelle determinate situazioni sono venuti a mancare. Mi dici com'è stato per qualche mese, perché ora probabilmente non fa testo, allenare, cercare di ottenere l'obiettivo, sapendo già che a fine stagione, a quanto detto il Presidente, si sarebbero separate le strade? No, questo io ho pensato solo esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo, perché un obiettivo, parlando individualmente, professionalmente, è qualcosa di importante, poteva essere molto gratificante, e quindi al di là di quello che poi poteva succedere, io non ho mai pensato al futuro, e ho pensato solo esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo, e io credo abbia avuto veramente incidenza a zero. L'ultima cosa te la chiedo a proposito, di questo rapporto veramente così difficile con i tifosi, nell'arco dei venti mesi, con l'ambiente in generale, al di là che con i tifosi, visto che arriverà probabilmente la matematica anche sabato, ti senti di chiedere scusa per quello che è stato questo campionato, tu come allenatore, ma in generale anche a nome della società? No, scusate, io non chiedo scusa perché sul discorso del lavoro, ne assumo le responsabilità, ho commesso errori, dal punto di vista tecnico, tattico, uno deve chiedere scusa quando ha mancanza di rispetto nei confronti di qualcuno, da parte nostra c'è stata grandissima professionalità, grandissimo lavoro, rispetto dei ruoli, e poi tutto quello che è successo fa parte del gioco, fa parte delle situazioni, perché, l'ho sempre detto, quando le cose vanno male, che a rimetterci siano in prima persona gli allenatori, perché ne va della loro professionalità, i giocatori in prima persona, perché ne va della loro professionalità, quindi non è una questione di chiedere scusa, abbiamo commesso degli errori e paghiamo sul campo. Grazie, prego. Ciao mister, buon Dio. Analizzando la gara di domani, ti chiedo subito, Nicolas riesce a recuperarlo? Anche se queste ultime tre gare, insomma, servono purtroppo fino a un certo punto, però ti chiedo appunto, domani riuscirai a recuperare Nicolas? Vediamo, la situazione si recupera, o c'è Silvestre, quindi insomma, in questo momento sicuramente non è un discorso o un problema, assolutamente non è un problema. Ken invece, sembrava finalmente che fosse tornato a tua disposizione dopo nove giornate, invece, che è successo? L'altra settimana aveva fatto qualcosina con la squadra, abbiamo provato a dargli maggior ritmo, ma io credo non sia il caso di andare a aumentare, e rischiare una situazione in questo momento, tutto qua. Da Verona-Milan a Milan-Verona, com'è cambiato? Insomma, all'andata siete riusciti a fare un'impresa, perché per romare il Milan, lasciamo parlare che era un momento, a dire poco negativo, però insomma, vincere contro il Milan è sempre difficile. Adesso, a distanza di un girone, che Verona ritroverà in Milan? Beh, Milan non mi sembra molto diverso rispetto all'andata, perché l'andata non mi sembrava in difficoltà, cioè, un Milan che si stava riprendendo, che stava facendo cose importanti, noi facevamo una prestazione di altissimo livello, premiato poi da un risultato eclatante. Adesso, un Milan che è in lotta, è un Milan forte, ritrovo un Milan forte da parte ai miei, e dire di dare il meglio, perché voglio il meglio da ognuno di loro, per affrontare una gara contro una squadra di qualità. A distanza di un anno, 18 maggio, siamo ai Manuzzi e si festeggia un obiettivo che avete tagliato con merito, sottolineo con un pizzico di fortuna, ma sempre con merito, a distanza di un anno invece, purtroppo si dovrà celebrare questa retrocessione, in quest'anno, quanto è cambiato Fabio Pecchia? Ma questo non lo so quanto è cambiato, certo che ho vissuto con intensità 20 mesi, con questa, praticamente, un'esperienza molto gratificante, formativa, e questo sicuramente mi darà spunto per la mia carriera. Antonio Cassano, insomma, quest'estate è stato uno dei problemi del tuo Verona, e ieri sera Eugenio Fascetti ha detto io conosco Antonio e secondo me lui appena ha visto la squadra ha deciso di levarsi di torno per non usare altri termini visto appunto il livello della Rosa. Concordi con quanto ha dichiarato Fascetti? Ma questa è un'interpretazione che dà al mister, grande rispetto per il mister con il quale ho lavorato, dà una sua valutazione, una sua interpretazione, quindi non c'è poco da dire, anche perché parliamo ancora di una terza persona, una scelta di Antonio, quindi ormai mi sembra abbastanza passata di ritornarci su, non lo so quali sono stati i motivi, che insomma, rispetto la scelta di Antonio. Lei che si sente spesso con il Presidente Maurizio Setti, se dovesse darle un consiglio su quali giocatori lei ripartirebbe per il prossimo campionato di Serie B? Queste sono valutazioni, sicuramente non aspettano a me, valutazioni che vorrà fare il Presidente e considerate quello che ha visto e quindi io sono contento in quel senso perché con molti giocatori sono stati valorizzati e questo per me è un motivo di soddisfazione perché i giocatori giovani, i giocatori che venivano da anni in cui veramente di difficoltà e invece ho visto una loro evoluzione tecnica tattia di personalità in un campionato impegnativo per cui è un patrimonio che a disposizione della società le scelte le farà il Presidente. Da quanto pare c'è la volontà di proseguire comunque con questa strada che voi avete tracciato in questi 20 mesi e facilmente ci sarà la promozione di qualche figura che è già all'interno della società con ruoli più importanti. So che comunque con il direttore sportivo Fusco vi sentite e vi vedete spesso e secondo lei, mister, è questa la volontà del Presidente Maurizio Setti? Quindi quella di voltare si pagina ma proseguendo comunque con quanto seminato fino ad oggi? Guardate, io questo non lo so. Io parlo per me, questa è una valutazione, è una domanda da rivolgere al Presidente. Fusco non c'è più, il dimissionario non fa più parte di questo club e io in questo momento sono l'allenatore ma queste sono valutazioni che aspettano esclusivamente al Presidente e sinceramente non so quale sia la volontà del Presidente. Certo è che ha la voglia del Presidente di dare solidità come l'ha fatto in questo tempo, solidità a un club dal punto di vista tecnico e economico con la voglia di riprendersi in una categoria. Questo lo vedo, lo sento, lo percepisco poi al di là di quello saranno le scelte ma l'intenzione del Presidente è questa è abbastanza chiara. Il suo ricordo più bello e quello più brutto legato all'esperienza di Varona? Ma non lo so. Adesso quando sarà alla fine farò le valutazioni e farò il cassetto delle cose positive negative e negative e adesso devo pensare in questo momento a dare alla squadra una voglia in cui non è semplice ritrovare per affrontare delle partite e poi tutto quello che saranno processi valutazioni e ricordi c'è tempo per farlo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.